buongiorno amigli buongiorno amiglia allora video sulla situazione attacco fiorentina attacco calciomercato fiorentina vi ho già parlato in questi giorni sia del possibile scambio veretù cutrone sia del sogno di mezza estate dell'ipotesi ibrahimovic alla fiorentina e pensandoci bene dopo alcuni stimoli che ho ricevuto nei vostri commenti a proposito iscrivetevi condividete il video mi raccomando ho fatto una riflessione e ho pensato che l'andare a prendere cutrone e ibrahimovic sarebbe l'andare a prendere veramente una copia di attaccanti in grado di completarsi a vicenda nella rosa della fiorentina e di rispondere perfettamente ad esigenze tattiche tecniche di crescita e di sviluppo della fiorentina che veramente assieme si compenetrerebbero benissimo vi vado a spiegare perché giustamente quando io ho detto sul video che cutrone lo prenderei ad occhi chiusi e lo penso veramente perché penso che cutrone sia un potenziale fuori classe a livello di centravanti italiani e che per quelle cifre che girano con cutrone sarebbe da comprarlo subito sarebbe da comprarlo subito ma giustamente un commentatore mi ha fatto notare il fatto che sarebbe rischioso andare a prendere il solo cutrone per l'attacco e incentrare solo su cutrone la responsabilità di tutto l'attacco della fiorentina è una una osservazione diciamo che ci può anche stare però se assieme a cutrone la fiorentina dovesse far arrivare a firenze proprio ibraimovic ecco che tu avresti la soluzione perfetta perché il centravanti del futuro ma anche del presente sarebbe cutrone diciamo quello su cui innestare un ciclo molto lungo ma l'arrivo di ibraimovic a firenze distoglierebbe anche molte responsabilità immediate dallo stesso cutrone che non sarebbe l'unico riferimento offensivo della fiorentina ma avrebbe il tempo di crescere di ambientarsi e di imparare avendo a fianco un fuoriclasse come ibraimovic oltretutto se voi pensate alle caratteristiche dei giocatori cutrone per me è ideale per un modulo a due punte per esempio il 352 che è lo schema ideale di mister montella non lo schema qui il calcio di montella punta cutrone in un 352 ci sta benissimo per me mentre ibraimovic è forse più adatto ben inteso può giocare anche lui benissimo in un 352 anche assieme a cutrone magari però ibraimovic ecco che sarebbe l'attaccante giusto per un 433 perché è un attaccante con un senso del gol pazzesco con una tecnica immensa però vista la mole fisica visto il suo lavoro fisico in campo è anche un attaccante capace di aprire spazi per gli altri ecco che mettendolo punta centrale nel 433 sarebbe un po un nostro gecko diciamo con tutto quello che ne consegue quando si parla di ibraimovic quindi sarebbe una coppia che si completerebbe benissimo sia dal punto di vista del loro rapporto tecnico tattico diciamo sia a livello di responsabilità e di età perché avresti un giovane avresti un vecchio diciamo usando questo termine avresti l'acquisto top che distoglie anche l'attenzione e le pressioni da cutrone avresti due giocatori adatti per due moduli diversi che sono stati usati e possono essere usati tutti e due nella fiorentina di montella andresti a avere due soluzioni ambivalenti con caratteristiche diverse ma in grado di completarsi a vicenda e di rispondere perfettamente alle aspettative e ai compiti dell'attacco fiorentina ci sarebbe anche vlaovic che paradossalmente curiosamente sarebbe un po un misto tra i due anche tecnicamente perché è un giocatore di grande stazza molto alto adatto per me sia a giocare in un modulo a tre punte come centravanti sia in un modulo a due sarebbe un po il jolly nei confronti di tutti e due capito quindi avendo cutrone vlaovic e ibraimovic in attacco avresti veramente due due poli due poli che sono cutrone ibraimovic in cui le carenze dell'uno i limiti dell'uno sarebbero quasi perfettamente andate coperte dai pro e dai vantaggi dell'altro e in più ai vlaovic che è un misto tra i due così così possiamo dire il jolly il termine giusto e jolly che può veramente fare il terzo incomodo o meglio il terzo comodo va da sé che facendo queste riflessioni si lascia da parte simeone a livello di punteri diciamo io sto analizzando il capitolo centravanti barra puntero della fiorentina che è quello su cui da quel che ho letto dovrebbero esserci comunque degli investimenti parlando di punteri ci sarebbe la questione simeone ecco se voi avete seguito i miei video mi seguite da tempo io simeone l'ho sempre difeso nel senso che ci vedo delle qualità in questo giocatore che purtroppo nell'ultimo anno non sono state espresse bene è stato forse il giocatore più deludente di tutta la fiorentina però un giocatore per esempio che io in una lazio ce lo vedrei da dio se io fossi anzi se io sarei come dicono i futuristi la lazio cercherei di portarmi a casa simeone specie in vista magari di un'accessione di immobile perché sono giocatori veramente simili simeone è un attaccante che in un gioco di contropiede sarebbe perfetto per una squadra e mi ricorda molto immobile cui sui pro e sui contro un giocatore per esempio che quando fai dei lanci lunghi riesce a stoppare molto bene la palla a terra e ad andare dritto per dritto è un attaccante che in corsa riesce a fare sportellate vi ho sempre detto che la sua più grande mancanza è la freddezza sottoporta quella sì per certi versi anche ad immobile a volte capita però simeone in certe squadre in certi ambienti in certi giochi per me può veramente 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 fare bene penso alla lazio penso anche al torino da noi io non è che festeggerei per una cessione di simeone non è che dico che che non è capace che è scarso che è un blef assolutamente no io penso che abbia delle qualità come giocatore però può anche essere che sia lui stesso magari a voler andare via o a ricevere offerte può essere che sia la società magari a ricevere delle offerte convenienti e dall'italia e dalla spagna o dall'inghilterra e quindi l'ipotesi di cessione di simeone possa essere presa in esame ecco che in quel caso per me l'andare a prendere cutrone ibraimovic e dare fiducia a vlaovic a livello di punteri tra virgolette potrebbe veramente essere una soluzione ottima e vi dico anche di più una soluzione economicamente affrontabile perché cutrone come vi ho spiegato nel video su veretù e cutrone verrebbe a firenze proprio all'interno dello scambio con veretù no potrebbe venire a firenze con quel tipo di modalità ibraimovic è mi pare in scadenza con la squadra della mls ma comunque può liberarsi o comunque a livello di cartellino non spenderesti molto a livello di stipendi cutrone non mi pare che anche per l'età guadagni come un nababbo quindi il suo stipendio sarebbe credo io ampiamente affrontabile dalla fiorentina per quel che riguarda lo stipendio di ibraimovic bisogna vedere se riceverà altre offerte faraoniche cosa deciderà di fare però ripeto se quello di ibraimovic non è un sogno di mezz'estate non è una voce ma è un'ipotesi anche percorribile io credo che l'andare a lavorare parallelamente su queste due trattative oltre che possibile possa essere veramente anche intelligente e conveniente dal punto di vista tecnico tattico perché oltre all'immagine che avresti con un ibraimovic a firenze e tutte le cose che vi ho già detto andresti veramente a prenderti uno dei migliori attaccanti in prospettiva del calcio italiano che è cutrone e lo affiancheresti ad uno dei giocatori più forti penso io degli ultimi 20 25 anni che può veramente dare ancora molto specie in una piazza come firenze quindi io se mai stessero ascoltando questo video ai buoni daniele pradè a joe barone nostrissimo e a rocco camisò il più nostro di tutti io consiglio veramente di seguire questa ipotesi qui ovviamente se è fattibile se è un qualcosa di percorribile perché non sono non sarebbe la classica boutade la classica figurina anche l'altra volta un ho ricevuto un commento che mi diceva i bremovi ci sarebbe una figurina un po per la fiorentina tu che sei contro contro le figurine ma dipende perché noi veniamo da anni nei quali il nostro entusiasmo tra virgolette anche la nostra fama la nostra fama a livello di timore delle altre squadre è bassa noi avremo anche bisogno di un rilancio a livello di marketing di entusiasmo di passione e di conoscenza della fiorentina specie in certi ambiti leggi calcio americano noi stiamo o meglio noi dovremmo vivere un'ascesa a livello di marketing a livello di crescita del fatturato e di quelle cose quindi un acquisto come i bremovi ci potrebbe stare ok poi ripeto sarebbe veramente una cosa consigliabile questo tipo di operazione questo double cutrone ibrahimovic perché si incastrerebbero veramente alla perfezione quindi un qualcosa su cui io metterei veramente un grande sì un grande sì un grande sì ditemi cosa ne pensate è un caro saluto bacioni